Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Stefano De Martino ha raccontato un evento drammatico della sua vita che è avvenuto nei primi giorni della sua relazione con Belen Rodriguez. I due furono coinvolti in un grave incidente in moto a Roma. De Martino ha dichiarato, ero in moto con Belen, lei era seduta dietro di me. Proprio mentre avevo accelerato, ci siamo scontrati violentemente con un Ford Transit. Mi ricoverarono in codice rosso, avevo il setto nasale fratturato, 50 punti di sutura sul braccio sinistro e un tendine lacerato. Eravamo al pronto soccorso in codice rosso. Belen aveva solo un graffio sul polso e una caviglia che sembrava slogata, e attorno a lei c'erano medici, paramedici, primari di diverse specialità, tra cui pediatri, ortopedici e dermatologi. L'incidente avvenne nei pressi degli studi di Maria De Filippi e nei giorni successivi si parlò molto dell'accaduto, anche se ci furono voci infondate su un incidente finto organizzato per i fotografi. Nonostante le gravi ferite, Stefano è riuscito a superare quei momenti difficili e oggi racconta l'episodio con un sorriso, mostrando di aver trovato il lato ironico della situazione. Ha poi aggiunto, riprendo conoscenza, mi tolgo il casco e penso a Belen, che figuraccia. Mi giro e le chiedo se sta bene. La reazione di Belen al racconto di Stefano è stata piuttosto infastidita, tanto da smettere di seguirlo sui social. Stefano continua a ricordare quei momenti come una parte significativa della sua vita, utilizzandoli per creare un legame con il pubblico attraverso la sua capacità di ironizzare sulle situazioni difficili. E tu cosa ne pensi delle parole di Stefano e della reazione di Belen? Faccelo sapere nei commenti.